A Pomigliano dove è in atto il presidio contro Marchionne e contro l'esposizione della nuova banda, intervistiamo un operaio della fabbrica tipo Magneti Marelli di Napoli e chiediamo perché siete qui naturalmente in breve? Semplicemente siamo qui perché a differenza di quando annuncia la Piazza, noi siamo uno stabilimento, noi facciamo parte della Magneti Marelli e ci siamo 4 stabilimenti che verranno concentrati tutti a Napoli e per un sale di 1025 persone, di queste 1025 persone se fanno bene tutte le cose, quindi passeranno in VIP solo da 400 a 500 persone e il restante delle 500 persone sono persone che sono in esubero, che da lunghe a terzi saranno messi in vento alla sala, saranno scusi al posto di roba. Questa è la situazione alla faccia di tutti coloro che dicono che la banda assorbirà tutti i lavoratori, benzogne, benzogne, benzogne. Infatti, infatti, si incrivede un ufficiale, l'azienda ha dichiarato un esubero strutturale di 15% di persone e questa è la verità. In queste cose bisogna uscire fuori, bisogna uscire fuori. Quindi la Fiat ha dichiarato ufficialmente che queste aziende saranno fuori, l'ha dichiarato la nostra azienda, Magneti Marelli, come sappiamo bene, Magneti Marelli che è Fiat, il tutto si muove in base alle esigenze di Fiat. E lì più il punto della stessa è proprio questo, che è ufficiale, ci sono più di 500 persone in esubero strutturale, non forse con il punto della stessa, già stiamo senza, dal 2013, quando fissi la stessa, io saremo senza lavoro. Ma che cosa non ha detto che lui ha salvato i stampimenti, tipo a piano, buttandosi, cittadini. Alla faccia di quello che dice Marciote, che le cui notizie dicono che la Panda appunto assorbirà tutto il personale di Fiat e dell'intutto. Noi siamo l'intutto di primo livello. L'importante è andare, immaginiamoci poi gli altri e già altrimenti non abbiamo nessuna convinta. Ovviamente il nostro stampimento sta andando a finire, capito? Noi come i tutti i altri dovremmo essere stati garantiti come i primi a passare a Pomigliano, sono tre anni, più due anni ancora che ha un quadro di cassa integrazione, in cinque anni noi ne abbiamo nessun futuro, perché non è che portando la Panda a Pomigliano ci ha portato, non so, i paraurti per la componentistica, noi facciamo la componentistica, noi lo siamo assicurati sui 700 posti di lavori che sono rimasti, come dice, noi non abbiamo nessun futuro, ovviamente, stiamo andando a morire e man mano che finisce la, finita la 47, finita la 59 stiamo lavorando solo su un po' di Ducati, inizia dall'anno prossimo, dal mese prossimo, si parla, su tre giorni per 150 lavoratori, su un organico di mille lavoratori ancora che siamo compresi Caimano e Marcianissi, allora noi pensiamo, pensate che l'operato del governo Monti, perché tu non è chiaro, hai avuto una commessa per lavorare per la Panda, allora vuol dire che tu hai un futuro, siccome tu non hai nessun futuro, perché non hai nessuna commessa per la Panda, ecco perché noi siamo preoccupati che stiamo andando. E pensate che l'operato del governo Monti vi possa salvare? E ancora peggio, perché ieri hanno fatto un accordo, hanno ciclato che siamo usciti dalla Monti tutti, il signor Marchionna oppure ti ha detto che ci dà 600 euro e stiamo perdendo 80 euro per il vecchio contratto che avevamo, vuol dire che ce ne ha tolto 960 e ce ne dà 600 per il di poi, vedi come andiamo indietro e non avanti per quello che vuol far capire il signor Marchionna, ha capito il discorso? Come no? Prego, prego. Se l'indirizzo del governo attuale, e quindi quello di qui, è l'indirizzo che abbiamo visto sulle pensioni e quanto altro, siamo rovinati, c'è stampa peggio, allora io mi fiderei più della Fiat che non di questo governo. Posso fare un'ultima domanda? Di fronte a questa situazione vi sentite precari nella vita e non solo nella vita? Siamo preoccupati, non precari, in questo Stato tu sei preso i miei presenti per esempio i miei, io ho 35 anni di contributo, io ho 58 anni di età, io per l'anno prossimo se non provvediva il governo non potevo accedere automaticamente alla mobilità e dopo di che mi andavo a collegare in mezzo, vuol dire che io lasciavo, come io, come altri colleghi e altri 100 posti di lavoro, la possibilità di fare entrare i 100 giovani, tu mi hai fatto una legge che io devo rimanere ancora 6 anni in fabbrica, ma quale prospettive per il futuro del lavoro ci sono per i giovani, fammi capire, tu stai creando ancora più disoccupazione rispetto a quella che c'era prima, questo è tutto. Sto discutendo la tua domanda giusta, chiara e netta, allora, per come stanno oggi le cose, specialmente, noi stiamo in corso, abbiamo una copertura in riferimento alla cassa di operazione fino a luglio del 2013, quindi io mi sento altra mente, completamente un precario fino al 2013, con un'altra tanta certezza è che l'agosto del 2013 da precario diventerò disoccupato, non c'è bisogno di aspettare, già oggi, già oggi lo sappiamo e stiamo qui a festeggiare a me, che cosa, 925 famiglie per la strada, un sacco di brutto, un sacco di brutto, stessa pomodoria a me, grazie, grazie a te.